La scena della virtualizzazione è quella dove è consentito mettere in scena ad esempio un corpo virile, maschile, senza avere troppi guai. In giro da tutte le parti a cercare uno che abbia avuto finalmente il regalo alla famosa caramella drogata. Chi pensa che le piazze virtuali e i giochi virtuali si siano diffusi contro il volere degli adulti, secondo me non può fare una buona prevenzione delle politiche che ci portino a capire come riconsegnare i territori ai nostri figli. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!